Il referendum sull'autonomia si avvicina e i giochi tra Montecitorio e Palazzo Madama sembrano essere già chiusi. Qualche indeciso a dire la verità c'è, ma è una minima parte rispetto alla stragrande maggioranza di deputati e senatori. A Roma, a rappresentare la nostra regione, ci sono 69 onorevoli. Di questi 48 voteranno sì, 11 si asterranno, 8 si dichiarano indecisi o non vogliono dire cosa votano e 2 non possono votare perché hanno la residenza altrove. Detto che il centrodestra voterà compatto per il sì, con qualche piccolo distingo sulle motivazioni, la situazione più frammentata e per certi versi paradossale è nel centrosinistra. Il PD è spaccato, nonostante il sì critico votato dalla segreteria regionale, molti onorevoli dichiarano che non si recheranno alle urne. Sono sette le astensioni eccellenti tra i deputati, una tra i senatori, quattro gli indecisi a Montecitorio. Insomma, più diviso di così, il Partito Democratico non può essere. Alla faccia delle indicazioni di partito. Un tempo si diceva che a sinistra le rispettavano in modo quasi militaresco. Ecco, appunto, una volta. Veniamo agli altri. MDP, per chi non l'avesse ancora capito, i fuori usciti dal PD diserteranno in massa le urne. Tra i 5 stelle la maggioranza voterà sì, ma alcuni deputati e senatori hanno preferito non rispondere al quesito. Insomma, non si espongono. A due settimane del voto, gli schieramenti politici hanno scoperto tutte le carte. Ricordiamo che il voto è un diritto. Esercitarlo o meno sta a voi. Non dimentichiamo che è la forma più alta di democrazia.